Ciao a tutti e benvenuti a Musica Setta, le imperdibili lezioni private in pubblico dei tu, da Federico e Sebastiano. Benvenuto a tutto il nostro folto pubblico. Oggi avevamo proprio voglia di suonare insieme un brano di Bob Marley, Gemmin, anche se le condizioni non ce lo permettono, ma noi un modo lo troviamo sempre. E questa volta non lo faremo da soli, ma lo faremo insieme a un fantastico ospite. Anche se forse lui non capirà bene quello che succederà, e forse non lo capirete nemmeno voi. Ma se avete pazienza, alla fine di questa puntata capirete che tutto ha un senso, quindi non cambiate canale! Un volto notissimo della Rai di Netflix, l'avete visto dappertutto, un grande comico... Comico è antico, Federico, oggi si dice stand-up comedian! Francesco De Carlo! Ciao ragazzi! Eccolo qua stai! Noi stiamo... Tu come stai Francesco? Bene, 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 non c'è male. Bene, 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 non c'è male, male, malissimo! No, diciamo che a me non piace la gente, però comincia ad averne bisogno, ecco. Francesco, senti, noi vogliamo insegnare a te e a tutto il mondo come si fa a suonare insieme, anche se non si può, e anche se non sai suonare! Ah, ecco perché mi avete chiamato! Allora, la prima cosa importante da capire, Francesco, è che questo pezzo è in Si minore. Come siamo messi a Si minore, Francesco? Male, male. Ci vuole il barré, giusto? Ci vuole il barré. E allora noi tu troveremo una soluzione per te e per tutti quelli che da casa non riescono a fare bene il barré. E allora un pezzo che c'ha come accordi Si minore, Mi settima, Sol, settima maggiore, Fa diesis, si può, ecco la parola nuova da imparare oggi, trasportare, che significa trasportare in musica? Che io sposto tutti gli accordi, ogni accordo con le sue proprietà, un tono sotto. Quindi quello che era Si minore mi diventerà La minore. Guarda che bello! Il Mi settima diventa Re settima e poi c'è un bellissimo Fa major seven, che c'è una posizione facilissima, è quello che somiglia un po' al Do, lo vedi? Ok. Ma io c'ho... Ma due corde sotto, una corda sotto. Una corda sotto, le due dita. L'ultimo accordo che abbiamo è Mi minore. Quindi... Oh yeah! I grandissimi oh yeah! Devi sapere che nel reggae, la chitarra spesso è un'ulteriore percussione. Allora, per fare questo, tu dovrai fare il barren male, indicativamente il quinto testo, col dito morbido, in modo che le note non suonano. Perfetto! Cantiamola a sto punto pure, no? Jamming! No, non ci arrivo, è troppo alto. Ma come rite quell'altro? We're jamming, I wanna jamming with you. We're jamming, we're jamming, and I hope you like jamming too. Beh, è una canzone reggae, forse una percussione. Questa cosa si è chiamato tu. Ah, ok. C'ho due tipi di tazzine. Queste qua, di vetro, e questa di ceramica, penso che sia. Forse io preferisco il vetro, Sebastiano. Esatto. A questo punto, un'ultima cosa. Una saliera, una cosa. Ah, sì, sì, sì. Questa è la saliera. Però non fa rumore. Ma se ci metto il mais qua dentro? Eh, questo fa casino. Bravo! Ma che so, regà! Dai, ormai sono diventato Hans Zimmer. Bravo! Ora, essendo... Dietro avanti, dietro avanti. In modo... Bravo! Grazie! Io non so quello che avete in mente. Ti stupirai delle tue doti canore e di chitarrista. Non vedo l'ora. All right, jammy. I wanna jammy with you. We jammy, jammy. And I hope you like jammy too. Ain't no rules, ain't no vow. We can't do it anyhow. I and I will see you through. Cause every day we pay the price. We delete and sacrifice. We jammy to the jammy's crew. We jammy, 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 jammy. I wanna jammy with you. We jammy, jammy. And I hope you like jammy too. Allora, hanno detto la minore, re, fa. E mi in minore. Perfetto! Allora funzionano queste lezioni private. Asi si no. Grazie.